Ciao ragazzi, oggi faremo un video molto emozionante. Ciao, oggi il primo giochino da fare sono due cerchi, i due brilli bianchi sono l'entrata, con la ruota davanti si sta esterni, invece con la ruota di dietro si sta interni. Poi al secondo cerchio si cambia il giro, anti-orario. Adesso proverà il mio babbo. Vediamo, usciamo dal cerchio e inizia a girare l'esterno. Se riusciamo a fare sempre la pedalata in avanti è meglio. Qui stiamo un po' per armi, per applicare. Allora, Alex è già entrato, però come gli ho appena detto ha troppa fretta di chiudere il cerchio. I giochi si fanno con calma, pazienza e controllo. Guarda via avanti, guarda via avanti. Molto bene, adesso cambiamo il giro. Peccato. E' bravo. Dai, bravo, bravo, dai che ci siamo. Dai, che questa è la volta buona. Lo stai facendo con i pedali? Bravo, piano, piano. Dai, dai, dai. Concentrato, concentrato. Calmo, finisci l'esercizio. Allora, abbiamo perso l'ultimo virino. Allora, oggi giochiamo un po' col vaniofano un'altra volta. Abbiamo fatto questa piccola strutturina. Vediamo un po'. Ottimo. Qui si migliora. Vai, Alex. Vediamo il secondo tentativo. Adesso il babbo salterà questo. Non l'hai toccato. Adesso vediamo se il bunny hop si fa anche con il monopattino. Allora, adesso proviamo a fare io di qua, il bunny hop e Alex di là. Alex ha un'altesta di 8 centimetri e qua siamo sui 28. Io ho le bike e faccio un po' più... sono meno bravo di Alex. Dai, vediamo se riusciamo. Allora, li posiamo perché il babbo non ce l'ha fatta. tre volte a me non mi è riuscito ma tre volte l'ho fatto. È riuscita la catena? No. Abbiamo il pubblico... Allora...